Il presidente della RAI, che dovrebbe essere di tutti, stiamo chiedendo da settimane che facciano vedere le schede. Abbiamo ragione di credere che le schede siano state segnate, le schede dell'elezione del presidente Foa. E lo ridico dopo quello che ha detto alla presidente Casellati e al presidente Fico. Se avete a cuore i principi di trasparenza dei lavori parlamentari, dovete aprire quelle schede e far vedere se ci sono dei segni sull'elezione di Foa. È uno scandalo senza precedenti nella storia dell'informazione italiana. Neanche Berlusconi è arrivato a tanto. Vergognatevi!